Gli essenziali sono dei prodotti del metabolismo secondario delle piante, quindi le piante producono gli essenziali per ripararsi dai raggi solari, così come per riparare i propri tessuti e allo stesso tempo per poter repellere attacchi esterni come virus, batteri e parassiti. Il 20% delle piante presenti sul pianeta Terra producono gli essenziali e ogni pianta può produrre dall'1 al 3% di queste molecole naturali. Quindi quando noi abbiamo una goccia di olio essenziale, in realtà abbiamo il concentrato pluripotente della pianta afficinale stessa. È così che una goccia di olio essenziale di menta piperita equivale a ottenere un beneficio che otterremmo dal 28 tazze del suo estratto secco. Quali sono gli oli essenziali da avere necessariamente in casa per far fronte a tutte le evenienze? Esistono centinaia di oli, all'inizio uno li vorrebbe quasi tutti, ma vi posso assicurare che con una decina di oli essenziali noi possiamo far fronte a tutte le evenienze per il benessere nostro e della nostra famiglia. Ad esempio non può mancare l'incenso, nominato come franchincense, che viene ottenuto da tre specie di alberi della boswellia dell'incenso. Quindi se noi oggi andiamo in farmacia e chiediamo un antinfiammatorio naturale, il farmacista ci darà un estratto secco di boswellia. Pensate se è vero che l'olio essenziale è il concentrato pluripotente della pianta a quanto corrisponde una goccia di oli essenziale di incenso ottenuto dalla pianta della boswellia. Quindi sicuramente è un effetto antinfiammatorio e antidolorifico naturale, ma diciamo che è molto più conosciuto perché è un potentissimo anti-age. Possiamo andarlo ad aggiungere alle creme cosmetiche, quindi l'incenso è ottimo per l'estetica, sia come azione anti-age che come azione anticellulite, ma è straordinario perché va a supportare le nostre funzioni cerebrali. Una goccia di oli essenziale di incenso riesce a nutrire tutte le cellule del nostro sistema nervoso centrale perché è in grado di andare a superare la barriera ematoencefalica, quindi andare a nutrire i neuroni là dove serve. La barriera ematoencefalica è il plotone di forza impenetrabile del nostro cervello, quindi il fatto che gli oli riescano a superarla è perché il nostro corpo riconosce la loro totale naturalezza, tant'è che la medicina ha iniziato a formulare dei principi attivi combinati agli oli essenziali per riuscire a superare la barriera ematoencefalica e ad andare ad agire là dove serve. La menta piperita è per la mente, possiamo utilizzare una goccia per la concentrazione, per avere un'attività mentale più smart, per accedere alla memoria a breve termine e pensate ottimo anche per avere un effetto raffreddante, quindi se noi mettiamo una goccia di menta piperita dietro al collo è come avere un effetto climatizzatore integrato, tant'è che è utile anche per abbassare la febbre e per gestire le vampate di calore. Un altro all'essenziale alleato del benessere delle donne è sicuramente la lavanda, questo è un all'essenziale ricco di linalolo che va ad agire sul muscolo striato, quindi va a allenare le tensioni involontarie, quindi sia per i dolori mestruali che magari per abbassare la pressione cardiaca possiamo mettere una goccia a livello del cuore o sui polsi, quindi è un antitensivo e che agisce sulla muscolatura striata, quindi va bene anche in caso di crampi, dolori muscolari e sicuramente è molto più conosciuto perché lava le emozioni negative, anche questo è un olio ottimo per la bellezza della pelle infatti è un lenitivo che può essere utilizzato in caso di ustioni o di irritazioni della pelle, magari a punture di insetto la lavanda lava e le nisce. Il limone è un all'essenziale detossinante, possiamo utilizzarlo sia per l'igiene della casa perché è un detergente naturale straordinario, quindi utilizzando l'olio essenziale di limone è molto economico e andiamo a rimuovere dal nostro ambiente domestico tutte quelle sostanze chimiche che invece andiamo a utilizzare per l'igiene della nostra casa. Il limone invece va a liberare le sostanze petrolchimiche che vengono accumulate all'interno del nostro corpo avendo un potente effetto diuretico e detossinante. La melaleuca e l'origano sono due oli essenziali che possiamo utilizzare contro l'attacco di virus, batteri e funghi quindi la melaleuca è straordinaria per l'acne e la pelle, per prevenire le candidosi, aggiungendo qualche goccia allo shampoo o al detergente intimo, io vado ad utilizzare la melaleuca tutte le volte che vado ad agire su un'area delicata del corpo l'origano invece lo vado ad utilizzare quando avendo un effetto più riscaldante voglio avere un'azione più forte quindi magari lo utilizzerò puro per rimuovere magari calli e verruche mentre posso andarlo a utilizzare diluito se voglio utilizzarlo ad esempio per avere un effetto riscaldante possiamo andarlo a diluire insieme a un olio vegetale, uno vale l'altro, l'importante è magari io consiglio di utilizzare quelli alimentari poi per completare la nostra collezione di oli essenziali indispensabili per far fronte a tutte le situazioni diciamo che l'equipe medico-scientifica di doTERRA ha realizzato delle miscele che io chiamo sistemiche la miscela respiratoria che possiamo utilizzare una goccia per tosse, sinusiti, raffreddori, riniti basta mettere una goccia direttamente sulla zona che noi vogliamo trattare con la miscela digestiva Zengest per il benessere digestivo quindi possiamo andarla a utilizzare in caso di reflusso now siamo all'istomaco per aumentare la digestione e così via mentre Deep Blue, Profondo Blue, è una miscela in grado di andare a riequilibrare il benessere del nostro sistema muscolo-articolare quindi è la stessa miscela di cui abbiamo parlato nello studio di PubMed che ci dimostra come il suo utilizzo può essere utile in grado di artriti quindi può essere utilizzata, io la chiamo un po' la miscela del dolore quando noi abbiamo un dolore localizzato che sia mal di schiena, mal di test, dolore in generale possiamo utilizzare questa miscela perché contiene per il 95% il metilsalicilato che è una molecola naturale con una forte azione antistaminica e antidolorifica naturale l'ultima miscela si chiama OnGuard, è la miscela che ci mette in guardia che ci difende da virus e batteri ed è in grado di andare a supportare il sistema immunitario in maniera naturale quindi anche qui possiamo utilizzarla per l'igiene orale, per il benessere delle vie urinarie e come difesa quotidiana, quindi una goccia sotto la pianta dei piedi di OnGuard è in grado di riequilibrare il nostro sistema immunitario alle normali funzioni difensive dell'organismo per parlare di OnGuard possiamo vedere che ci sono 4 piastre petri che sono degli strumenti che vengono utilizzati per le analisi microbiologiche in laboratorio in cui sono stati coltivati dello stafilococco auro resistente alla meticillina che è un batterio resistente agli antibiotici quindi nella prima piastra petri, partendo dalla sinistra, vediamo come una goccia di OnGuard è stata in grado di debellare la crescita del 98% dei batteri nella seconda piastra vediamo come una goccia di candeggina ha comunque permesso una crescita di questo organismo nella terza è una piastra di controllo per dimostrare che le condizioni di crescita di questo batterio erano ottimali in tutte e quattro le piastre e nella quarta è stata messa una goccia di lisoformio quindi cosa ci fa notare questo esperimento? che i batteri ormai si adattano alle sostanze che utilizziamo come igienizzanti quindi il mio consiglio anche da consulente è quello di suggerirvi di cambiare ogni tanto il detergente quindi non utilizzare sempre lo stesso gli oli essenziali hanno questa proprietà in maniera innata perché da sempre hanno dovuto far fronte all'attacco di virus e di batteri quindi loro già hanno un meccanismo di difesa in grado di debellare l'antibiotico resistenza tant'è che Doterra appunto ha creato tutta una serie di prodotti per l'igiene della casa e della persona a base di OnGuard per questa sua forte azione antibatterica quindi come ci dice il professor Bertuzzi certamente la chiave dell'efficacia degli oli essenziali è certamente un'azione globale, intelligente e armoniosa la quale non induce mutazioni batteriche e quindi resistenza ma al contrario rispetta l'equilibrio della microflora e rafforza il sistema immunitario quindi questo è estremamente importante è la cosa che a me è balzata all'occhio più di tutti un po' perché mi ha riguardato anche in prima persona perché ho iniziato ad utilizzare gli oli proprio perché avevo dei ricorrenti cistiti dove i farmaci purtroppo non facevano più effetto perché sono così efficaci? vedete quella che è la rappresentazione di una cellula? e pensate che sia noi come individui che il mondo vegetale parliamo lo stesso linguaggio ovvero una chimica basata su tre lettere carbonio, idrogeno e ossigeno quindi questa caratteristica e la loro minuscola dimensione molecolare permette agli oli essenziali di superare tutte le barriere del nostro corpo fino ad arrivare al flusso ematico ed essere trasportati in tutti i tessuti del nostro corpo e gli oli essenziali sono in grado di penetrare internamente ad ogni cellula del nostro corpo riescono alcuni a circondare il nucleo della nostra cellula andando a proteggere il nostro DNA dall'attacco di virus e radicali liberi quindi è estremamente importante scegliere la qualità degli oli che mettiamo sulla pelle proprio perché visto che ogni olio riesce ad arrivare fino all'interno di ogni cellula se utilizziamo delle sostanze poco pure le impurità arriveranno ad insidiarsi fino al cuore di ogni nostra cellula dando ad apportare dei danni a volte irreparabili potete vedere questo areogramma ci mostra gli oli essenziali presenti in commercio quindi purtroppo per la maggior parte sono di origine sintetica perché si fa molta meno fatica a riprodurre delle molecole in laboratorio per ingannare l'olfatto che non coltivare piante aspettare che raggiungano il loro potere balsamico raccoglierle, distillarle e ottenere oli essenziali un'altra parte, quelle in verde, sono gli aroma alimentari che sono caratterizzati da oli essenziali a cui sono stati aggiunti degli oli vegetali per poterli distribuire e utilizzare in maniera ottimale durante le nostre preparazioni gastronomiche nella parte viola vediamo gli oli terapeutici quindi quelli che possono essere utilizzati per l'aromaterapia e rientrano in quest'area anche gli oli essenziali biologici dove io, produttore di oli essenziali biologico vado a certificare che durante il processo di coltivazione hanno utilizzato sostanze tossiche che potrebbero apportare un danno all'ambiente o all'uomo quella minuscola fetta arancione che vedete nell'areogramma invece è rappresentato dagli oli essenziali di alto grado di purezza certificata e testata questo vuol dire che non solo vanno ad escludere l'utilizzo di sostanze come pesticidi e fitofarmaci ma vanno ad escludere che all'interno di ogni oli essenziale siano finite altri tipi di contaminanti di natura ambientale quindi magari una faglia acquifera sotto il terreno ricca di sostanze tossiche o magari il fatto che a fianco al mio campo di lavanda magari a qualche chilometro è presente un viadotto dove oltre ad avere il concentrato della pianta officinale purtroppo potrai avere anche il concentrato di metalli pesanti quindi oggi parleremo di quelli che sono gli oli essenziali CPTG ovvero certificati di alto grado di purezza testato perché non solo ci vanno ad escludere la presenza di contaminanti ambientali ma ci vanno a garantire anche quello che viene chiamato il grado di titolazione per ogni olio CPTG noi possiamo conoscere lo scanner molecola per molecola del contenuto dell'olio essenziale questo è estremamente importante perché se noi adesso prendiamo il lotto riportato sotto il flaconcino di un olio essenziale CPTG e lo andiamo a riportare all'interno di un sito indipendente vedremo che andando a scaricare il pdf possiamo leggere nella parte bassa che le analisi di questa melissa che ho preso come esempio perché è uno degli oli essenziali più adulterati rivelano che non ci sono contaminazioni o adulterazioni l'adulterazione è un vero e proprio crimine che viene eseguito per ammortizzarne il prezzo pensate che il prezzo di un olio essenziale varia al variare della resa quindi l'adulterazione purtroppo è una pratica molto diffusa e con gli oli CPTG le andiamo a smascherare e ad avere la certezza utilizzando questo sito che è Source2U e andare a vedere lo scanner di tutte le molecole potete vedere come in questo grafico nella parte bassa vediamo tantissimi segnetti questi segnetti rappresentano le centinaia di molecole naturali contenute all'interno di un olio essenziale in questo caso ho preso la melissa e di cui 6 si rivolgono verso l'alto con dei picchi più alti questi 6 picchi rappresentano che 6 molecole su queste centinaia sono presenti in una quantità superiore come faccio ad ottenere degli oli essenziali con un quantitativo così importante di principi attivi utili per il nostro benessere psicofisico parliamo di doTERRA che è una cooperativa che si occupa della distribuzione in tutto il mondo dei migliori oli essenziali attualmente presenti in commercio in grado quindi di distribuire oli CPTG e ottengono questo standard di qualità perché doTERRA ha deciso di andare alla ricerca del pianeta dei luoghi in cui le piante esprimessero il meglio del loro potere fitochimico quindi potete immaginare che una pianta di limone che nasce e cresce in Sicilia produrrà dei principi attivi differenti da una pianta di limone che magari cresce in Russia che dovrà invece compensare l'adattamento per adattarsi a questo clima sfavorevole quindi doTERRA va alla ricerca del pianeta delle migliori piante per ottenere i migliori oli attualmente presenti in commercio e la cosa che a me ha appassionato sinceramente più di tutti non è stata solamente la trasparenza in termini di molecole contenute all'interno del flaconcino perché per ogni lotto posso andare a leggere il gas cromatogramma che è quel grafico che vi ho fatto vedere prima ma è anche un'azienda che ha deciso di fare tutto questo nella maniera più etica e responsabile possibile dove non è andata in quei luoghi acquistando terreni e mettendo mano d'opera per produrre oli da vendere ma ha creato un network e una sinergia virtuosa di professionisti e di figure che già da tempo si sono sempre occupati della raccolta e della distillazione degli oli essenziali e che quindi ne conoscono i segreti più inestimabili questo standard di qualità ha fatto sì che la medicina rivolgesse il suo interesse proprio sullo studio di questi oli essenziali quindi se noi oggi andiamo all'interno di pubmed.gov che è la libreria medica governativa degli Stati Uniti in cui ogni mio collega biologo ambisce a pubblicare degli studi scientifici possiamo digitare direttamente do terra e leggere le decine di studi clinici eseguiti utilizzando questi oli essenziali tant'è che negli Stati Uniti sono già nate delle cliniche di medicina integrata dove alla chirurgia, all'ostetricia e altre aree della medicina allopatica vengono utilizzati in maniera combinata anche gli oli essenziali quindi in realtà dico sempre che abbiamo scoperto un po' l'acqua calda perché gli oli essenziali sono da sempre stati utilizzati per il benessere dell'uomo fin dalla notte dei tempi l'unica cosa che è cambiata negli ultimi 30 anni è che oggi la scienza è in grado di spiegarci il perché sono così efficaci quindi come si utilizzano gli oli essenziali in tre modalità per via aromatica, topica o interna quindi la via aromatica comprende il fatto di magari mettere una goccia di oli essenziali sul palmo della mano oppure annusarli direttamente dalla bottiglietta di oli essenziali o magari ricorrere all'utilizzo dell'aroma diffusore ad ultrasuono è sicuramente uno strumento indispensabile perché non solo beneficiamo degli effetti degli oli essenziali noi ma anche tutti i componenti della nostra famiglia inclusi gli amici a quattro zampe topicamente vuol dire utilizzare gli oli essenziali puri o diluiti a seconda del tipo di olio direttamente sulla zona da trattare e internamente intendiamo l'utilizzo degli oli essenziali per via interna quindi ingerendoli tra parentesi questa è una modalità di utilizzo esclusiva solo degli oli essenziali che hanno scritto in etichetta che sono aromi alimentari quindi non è sufficiente avere in mano un olio che scrive 100% naturale perché non vuol dire che magari ci sia solamente oli essenziali ma anche altre sostanze naturali così come è importante che ci sia esplicitamente scritto aroma alimentare per concludere è mia responsabilità informarvi su come ottenere gli oli essenziali in sicurezza quindi vi sconsiglio fortemente di andare a cercare online doTERRA, come acquistarli eccetera perché purtroppo molte persone prendono gli oli magari li modificano, li rimettono in vendita e è mia responsabilità come consulente doTERRA informarvi anche su come ottenerli nel modo più sicuro e più conveniente posso scegliere la carta vantaggi se so già perfettamente di quale olio ho bisogno quindi pagherò 25 euro più il costo scontato dell'olio essenziale mentre se non abbiamo un'idea chiara perché sinceramente vi dico che averne uno o due è anche limitante rispetto alle potenzialità che hanno gli oli essenziali doTERRA ci semplifica la vita offrendoci quelli che sono dei pacchetti introduttivi in cui oltre a non pagare la quota di iscrizione oltre ad avere la possibilità di accedere al 25% di sconto sui prodotti oltre a usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati e di avere accesso alle promozioni di doTERRA questi oli vengono proposti con un ulteriore sconto ce ne sono tanti di kit io ne propongo due sulla base della mia esperienza sono sicuramente la cosa più versatile e pratica per introdurci a questo mondo prevedono 10 flaconcini da 5 ml quindi 100 gocce a flaconcino e si rivolge a tutte le persone che vogliono utilizzare gli oli all'occorrenza quindi 100 gocce per ogni flaconcino sono più che sufficienti per utilizzarli quando ne abbiamo bisogno parliamo di una media di 14 euro a flaconcino quindi è veramente un prezzo molto accessibile dall'altra parte a sinistra c'è l'home essentials dove abbiamo gli stessi identici oli essenziali solo che in un quantitativo triplo perché ogni flaconcino contiene 15 ml di oli essenziale l'equivalente di 300 gocce e si rivolge a tutte quelle persone che vogliono utilizzare gli oli essenziali come evoluzione sul benessere della propria salute quindi per un utilizzo continuativo durante la giornata degli oli e non semplicemente all'occorrenza tant'è che in questo kit è anche regalato il diffusore io mi sono rivolta alla scelta di questo perché sicuramente il più conveniente perché con il triplo del quantitativo possiamo ottenere questi oli a meno del doppio del prezzo del family quindi se col family abbiamo una media di 14 euro a flaconcino con l'home essentials abbiamo una media di 27 euro in più io non avevo nemmeno il diffusore quindi per me ho ritenuto più opportuno iniziare con questo kit e indipendentemente dal primo o dal secondo kit che sceglierete il regalo è un'area formativa riservata per conoscere come utilizzare al meglio i nostri oli essenziali ma anche per conoscere come trasformare do terra non solo come uno strumento per il nostro benessere psicofisico ma anche come uno strumento per il nostro benessere economico e quello di tutta la nostra famiglia come creare il proprio account per ottenere queste promozioni semplicemente potete fare una richiesta del vostro account inserendo preliminarmente i vostri dati poi io vi contatterò telefonicamente e insieme invieremo la richiesta del vostro primo ordine a do terra per poter usufruire di queste straordinarie opportunità avere un account in do terra è straordinario non solo per le promozioni per la garanzia per il fatto che ci vengono rimborsate le spese di spedizione ma anche perché ogni volta che acquistiamo qualcosa in do terra ci ritorneranno indietro oli essenziali è vero che do terra ci dona benessere dal punto di vista fisico ed emozionale è vero che ci dona benessere economico dandoci dei guadagni per il lavoro che naturalmente faremo di condivisione ma la moneta impagabile che do terra ci restituirà sarà la gratitudine delle persone che avremo aiutato quindi non si tratta di vendere oli essenziali perché do terra ci impedisce di fare questa cosa si tratta solamente di ascoltare le persone intorno a noi conoscere le loro esigenze e poter dar loro la possibilità di ottenere una soluzione naturale quindi a me piace chiudere con questa frase dove tu sei la risposta alle preghiere di qualcuno la domanda è la stai ascoltando? e mi piace chiudere così perché è una frase che io mi sento fortemente sulla pelle perché mi ci rivedo un po' nella mia storia io nasco come perito chimico per poi conseguire la laurea in biologia e nutrizione mai nessuno mi aveva mai parlato di oli essenziali e per dieci anni nel periodo tra le superiori e l'università ho sofferto di fortissime cistiti che ho cercato di risolvere curando l'alimentazione utilizzando i farmaci che comunque mi prescriveva il mio medico e non c'è stato nulla da fare finché una mia amica ha risposto in qualche modo a queste mie preghiere facendomi conoscere gli oli essenziali e in tre giorni ho risolto una situazione che mi portavo da dieci anni quindi se questa mia amica non mi avesse mai fatto conoscere gli oli essenziali io oggi starei ancora facendo i conti con le mie fortissime cistiti quindi non so se voi avete mai avuto delle cistiti immaginate di viverci per dieci anni e capirete quanto per me è importante far conoscere a più persone possibili che delle soluzioni naturali esistono poi ognuno è libero di scegliere se sperimentare gli oli essenziali sulla propria pelle oggi tra una settimana tra un mese o tra un anno il nostro lavoro è quello di far conoscere che un'alternativa naturale esiste perché solo quando io conosco posso avere la possibilità di scegliere cosa è meglio per me quindi io spero di aver risposto ad alcune delle vostre domande che oggi vi hanno portato a partecipare a questa classe vi invito a scrivermi in privato o a contattare la persona che vi ha invitato a queste classi per poter entrare nella nostra chat telegram che è un vero e proprio prontuario all'inizio la domanda numero uno di tutti è ok ma io come faccio poi a conoscere gli oli da utilizzare per la mia situazione eccolo qua scaricando telegram e partecipando a questa chat potete scrivere per parola chiave che ne so mal di testa e andare a leggere gli oli essenziali da utilizzare per lenire il mal di testa oppure potete andare a leggere le testimonianze o potete fare nuove domande tipo ultimamente ci hanno chiesto come poter fare il colluttorio o ci hanno chiesto come poter proteggere la pelle dai raggi solari e così via quindi è uno strumento utile in grado di potervi dare accesso anche ai messaggi che sono stati scritti prima del vostro ingresso nella chat e adesso se ci sono domande do uno sguardo alle chat ci dici qualcosa in più su come diventare consulenti di oli essenziali assolutamente sì si diventa consulenti creando un account in doterra studiando inizialmente i primi dieci oli e continuando questo studio individuale e tramite un'assistenza continua che viene erogata da parte mia e da parte dei miei collaboratori tu pensa che quando noi diventiamo consulenti in doterra diamo la possibilità agli altri di conoscere che delle soluzioni naturali esistono quindi semplicemente offriamo la nostra consulenza gratuita informando le persone quindi non facciamo pagare una prestazione perché sarebbe limitante magari uno fa due o tre consulenze e viene pagato a prestazione ma le persone con cui parliamo degli oli avranno la possibilità di acquistarli all'interno di un nostro sito e tutti gli ordini che loro eseguiranno da oggi fino a negli anni doterra ci riconoscerà sempre una royalty questo è uno strumento straordinario perché vuol dire che se la persona cambia casa o qualsiasi altra cosa potesse succedere è continuo il rapporto cliente-consulente e doterra ci dà anche la possibilità di accedere a delle quote della società quindi in realtà si diventa consulenti con uno spirito di aiuto verso gli altri e una formazione continua in modo da poter aiutare più persone possibili ad avere in mano delle soluzioni naturali e questo si convertirà in automatico anche in una certezza economica di cui possiamo parlare in maniera più approfondita in un'altra sede io spero di aver risposto alla maggior parte delle vostre curiosità come al solito vi mando un abbraccio profumato e a presto